Allora, l'omeopatia, che cos'è? Se ne parla tanto in questo periodo, ma in realtà che cosa vuol dire? Fondamentalmente è una tecnica di stimolazione, io la definisco una marcia indietro, cioè il nostro organismo stimolato omeopaticamente riesce a recuperare il suo stato di salute e a tornare indietro in quello che è stato il suo percorso verso la malattia e con una stimolazione omeopatica riusciamo a recuperare la nostra condizione di benessere. È una tecnica medica riconosciuta dallo Stato, tant'è che i rimedi omeopatici hanno la dignità della denominazione di medicinale omeopatico, sono anche detraibili, ma vi do queste piccole notazioni per dirvi che non è vero che l'omeopatia sia qualcosa legata alla stregoneria, sia al credere o a qualcosa ancora che abbia un dubbio scientifico, perché su questo ormai abbiamo acclarato la fondatezza e la grande efficacia di questo tipo di tecnica. Qual è lo spettro di intervento dei prodotti omeopatici rispetto alle patologie e alle malattie esistenti? Allora, molte delle persone le quali proponiamo un trattamento omeopatico ci dicono no ma è una terapia troppo lenta, troppo lunga, preferisco prendere qualcos'altro e quindi rispondo alla domanda, noi diciamo a queste persone che l'omeopatia è lenta per quelle patologie croniche per le quali ci sono voluti mesi o anni per ammalarsi ed è molto rapida per tutte le patologie acute ovvero ieri stavo bene, oggi ho un raffreddore, curarsi omeopaticamente significa guarire più velocemente che prendere qualunque farmaco noto o chimico. Ci sono controindicazioni come per i farmaci normali? Allora, in omeopatia non abbiamo controindicazioni, questo non deve però rendere il cuore di chi la consiglia pensando anche se sbaglio non succede nulla, in realtà non è così, insomma andremo a sprecare un'occasione ma come effetti collaterali l'omeopatia non incappa in questo tipo di problematica che invece riguarda tutta la medicina allopatica, la medicina chimica è la medicina di elezione per i lattanti, per i gestanti e per le persone anziane che assumono diverse terapie. Ultima domanda, è anche una medicina green? È una medicina green, a me piace molto sapere nel momento in cui consiglio un prodotto omeopatico che il paziente non avrà un impatto nei confronti dell'ambiente perché le sue eliminazioni del farmaco, quindi per via urinario e per via fecale non hanno alcuna traccia di farmaco e conseguentemente non si inquina il nostro ambiente e lo stesso tubo granuli una volta che è finito, essendo costituito da vetro e plastica verrà riciclato in modo differenziato vetro nel vetro e plastica nella plastica, impatto zero. Grazie